Ecco noi a Radio 2 e Social Club, Blackie Marking! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Ma che fa? Ma che fa? Ma che fa? Grazie per la visione! Mi sembra una coreografia un po' improvvisata, un po' eh? Un po' anni Ottanta! Sì, sta morì, guarda! Ma che fa? Pilate! Ma è la roba! Sta facendo pilate! Palco girevole! Fa le flessioni con una mano! Come Massimo Ranieri! Guarda, non ce la fa più già! Ci ha più fiato, guarda, guarda! We could stay much better than this, but what can we do? E stavo meglio noi! Ma è quella allora! È certo! Ma non manchiamo mai! E stavo meglio noi! Canù! Mangiamo mai! Mangiamo mai! Mangiamo mai! Mangiamo mai! Senti come pronuncia bene l'italiano! Troppo bene! Si chiama Luca eh? Blechi Marking! Blechi Marking! Per la prima volta in Italia! Venga, venga! Venga, venga! To the table!